Mamma di grazie! Una mamma italiana! Sono Angela Gimeni, ho 58 anni, sono nata da Umodossola, vivo a Crono, sono mamma di due figli, Simone e Rita, Simone ha 37 anni, Rita ne ha 30, sono nonna di tre bambini, un quarto in arrivo a settembre, i miei nipoti sono Leonardo, 11 anni, quest'anno, Franci, Francesco, 10, e il piccolo Cristian, 8, a settembre arriverà, speriamo che sia una bimba. Sono un operatrice socio-sanitario e dirigente di comunità, gestisco questa struttura da quasi 20 anni, prima io, prima mia sorella, ora vi ho aggiunto lo scelto a mia figlia, che è giustamente la donna giovane. Come hobby, ho preso l'abilitazione all'uso delle armi, perché mi piace molto andare al polivono, quando ho tempo, naturalmente, perché quel lavoro che faccio, purtroppo, tempo ne rimane forte. Io mi ritengo una persona molto umile, e sono una persona che mette il cuore in quello che fa, sia nel mio lavoro, sia con i miei figli, e con i miei nipoti. Sono una persona che, essendo single, o meglio divorziata, io vivo da sola, e per cui passo le mie giornate con i miei cani. abbiamo adottato sette cani, per cui mi diverto con loro, e mi prendo cura del mio giardino. Mi piace prendere cura di me, perché altro internamente, con l'alimentazione. Perché seguo un'alimentazione sana, che cerco di farla, di proporre anche ai miei ospiti. Ho scelto di partecipare a questo concorso, perché ho partecipato 11 anni in Fatima Miss Mamma Gold, ho partecipato alla selezione regionale, e l'ho vinta. Sono andata alla finale, l'11-12 luglio del 2009. Ho messo prima di diventare il nome per la prima volta. E a 11 anni di distanza, ho voluto rimettermi in gioco, anche perché ho conosco Paolo, Tetti e la Tema, sono delle persone molto serie, e semplici, e questo mi è piaciuto. Per cui quest'anno ho voluto riprovarci, per una mia soddisfazione così personale. e questo mi è piaciuto. 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 Per cui quest'anno ho voluto riprovarci, e questo mi è piaciuto. E questo mi è piaciuto. Mi chiedo di votare per me perché mi sembra di essere una persona molto semplice, la gente che mi ritiene, vengo definita una roccia, anche per tutto il mio passato, votate per me e vi saluto tutti, ciao!